Storie di Serie A su Radio Serie A con RDS Un saluto da Alessandro Alciato, oggi siamo al centro sportivo di Casteldebole, il fortino del Bologna dove tutto sta diventando possibile e l'ospite di questa puntata di Storie di Serie A in mezzo a tanti giovani terribili è un vecchietto altrettanto terribile con cui stiamo per parlare, ci racconterà tante cose, benvenuto capitano Lorenzo De Silvestri Ciao e grazie Ti chiamerò Lollo in questa intervista e ti ho sempre chiamato così Ma tutti mi chiamano Lollo, quindi Lollo va stra bene Senti, in questa intervista parleremo diciamo di due argomenti in particolare, intanto la straordinaria stagione del Bologna e poi la tua carriera che è altrettanto straordinaria anche dal punto di vista umano Partiamo dal primo argomento, partiamo dal Bologna Ti chiedo, quando ti guardi intorno qui, cosa vedi? Vedo delle energie positive, vedo competenza, conoscenza e vedo il rispetto dei ruoli cioè ognuno sa quello che deve fare, sia a livello fuori dal campo, quindi a livello societario a livello di gente che lavora proprio qui a Casteldebole, che anche nello staff tecnico e nei giocatori quindi ognuno ha ben chiaro il proprio ruolo e però vedo grande empatia, grande voglia di stare insieme e questo è nato, è cresciuto piano piano e adesso ovviamente i risultati hanno aiutato però c'è veramente voglia di stare insieme Invece se chiudi gli occhi cosa senti? Perché secondo me in questa storia il sentire fa la differenza Il sentire, i sentimenti sono tanti perché comunque adesso stiamo raccimolando bei risultati ma comunque le sensazioni vanno ovviamente a tutti quelli che sono passati, i giocatori che sono passati ovviamente c'è anche Sinisa, tutto il lavoro che è stato fatto prima e quindi sono delle sensazioni positive, cioè contrastanti nel senso che comunque abbiamo sofferto anche in alcune situazioni ma adesso ne stiamo veramente giovando e stiamo ottenendo proprio quei risultati di cui poi abbiamo anche sofferto per ottenere questo tipo di risultati In effetti fai bene a parlare del passato, perché il passato conta sempre, soprattutto in storie così belle ma in questa stagione cosa c'è di particolare, di diverso rispetto alle scorse stagioni? Dovresti scegliere una cosa per spiegare Il gruppo, sembra banale dirlo ma il gruppo perché comunque è variegato abbiamo tante nazionalità diverse, tante culture diverse ma si nota molto, questa è un po' una cosa che si dice, si ridice nel senso che quando vedi l'esultanza ai gol da parte della panchina da parte dei fisioterapisti, da parte dei magazzinieri e vedere tutta questa gioia nei loro occhi è un pochino il sinonimo dei risultati che ottiene un club quindi secondo me questa gioia negli occhi di tutti è la favola che stiamo vivendo ma è un orgoglio anche per noi Tu hai parlato del rispetto dei ruoli, allora facciamo un po' una carrellata di chi ricopre ruoli importanti in questo club, io partirei proprio da saputo Il presidente è mitico, è una persona straeducata, pacata sa quello che vuole e tratta veramente tutti in maniera incredibile e poi mi fa sensazione perché comunque lui si ricorda a volte anche i nomi dei figli i nomi delle compagne quindi veramente è una persona che cura tutti i dettagli quest'anno è molto presente e quindi veramente è una persona speciale Cosa vi chiede esattamente? A noi ci chiede di dare sempre tutto comunque giocando una volta a settimana ci dice che la partita è il momento dove uno deve dare tutto quello che ha dentro e poi solo la presenza per noi è un motivo per dare qualcosa in più perché comunque lo dobbiamo anche a lui che non ci fa mancare nulla e quindi ci chiede questo E voi a lui invece? Cosa chiedete? A parte lo stipendio, che quello è banale Ma a noi basta la sua presenza ecco perché comunque ha un'aura particolare cura veramente tutti i dettagli quindi vederlo qui a Casteldebole presente vicino alla squadra per noi è un qualcosa di speciale quindi a noi basta veramente la sua presenza Ma al premio Champions avete già pensato? Quello per la mia esperienza è certo No, no, sì, abbiamo ovviamente con i più esperti anche con la società è stata molto vicina a noi sotto questo punto di vista e quindi sicuramente abbiamo delle situazioni in ballo abbiamo delle cose in ballo quindi la società è stata molto vicina sotto questo punto di vista con noi Te lo chiedo perché se sei all'inizio della stagione o dopo qualche risultato figurati se il Bologna va in Champions adesso è diventato un obiettivo reale ecco, l'ho considerato un obiettivo reale e raggiungibile la Champions la classifica dice questo Io parlo sempre di sogni che poi diventano obiettivi quindi noi stiamo vivendo sicuramente un sogno bello, bellissimo però per noi è stato veramente un guardare partita dopo partita anche lì sembra una balità ma è stato veramente così c'è il crescere partita dopo partita prendere comunque consapevolezza di noi stessi e meritiamo di stare lì perché alla fine io parlo sempre di risultati che poi portano a determinati obiettivi e se stiamo là sicuramente abbiamo dimostrato sul campo e anche fuori di potercela lottare fino all'ultimo con delle grandi squadre che ovviamente sulla carta sono più forti di noi ma noi siamo lì e vogliamo veramente godercelo alla fine Continuiamo con il racconto dei ruoli, delle magie di chi ricopre questi ruoli ci racconti Tiago Motta Il mister è arrivato in un momento molto delicato per noi però ha portato un modo di giocare innovativo e ha portato anche lì un rispetto dei ruoli e abbiamo iniziato a credere di poter giocare in questa maniera qua e ci ha comunque dato tanta consapevolezza con i giovani comunque è stato molto importante perché ha fatto crescere tanti di noi e ha tirato fuori credo il meglio da un po' da tutti in campo poi adesso si vede quindi adesso credo che giochiamo chi gioca, chiunque gioca comunque gioca con una consapevolezza importante quindi non è importante tanto l'individuo ma la squadra e questo è gran merito suo Lui chi è esattamente? Non lo so, il professore in gita con gli studenti e quindi scherza con loro? Il militare in caserma e quindi è cattivo? Cioè è un buono, un cattivo? Chi è? Sa scindere bene i momenti nel senso ci lascia liberi quando è giusto che sia quindi anche nei giorni liberi o nelle situazioni anche in campo dove magari dalla tre quarti in su un giocatore può esprimere anche la sua fantasia però poi ecco nel rispetto delle regole è molto ferreo e vuole il massimo soprattutto in allenamento perché ovviamente dice che l'allenamento è lo specchio poi della partita ed è poi questo il risultato che gran parte della Rosa ha espresso forse il top della forma Ci sono delle regole fuori dal campo anche da rispettare Sì, sì, ma questo diciamo sono anche io che da esperto cerco di farle mantenere però ci sono sempre state c'è una, diciamo, delle regole da mantenere e poi in campo ovviamente Tipo? Una per capire Male, i ritardi le classiche cose ritardi il comportamento anche quando uno esce l'altro entra il comportamento con il compagno con l'allenatore ecco quindi sono quelle piccole cose che comunque sono importanti per mantenere delle regole nel gruppo e poi anche come impegno questo sicuramente lui è molto intelligente nel riconoscere quando un giocatore si impegna, dà il massimo e poi gli dà, diciamo, il premio della partita C'è un aneddoto che serve a spiegare meglio di altri aneddoti chi sia lui come allenatore? Ma un aneddoto in particolare no sicuramente l'ho visto cambiare atteggiamento della squadra durante gli intervalli quindi riuscire a toccare sia con le parole ma anche con la gestualità del corpo anche toccare i nervi giusti per poi poter cambiare le partite ma poi anche con delle scelte comunque di sostituzioni oppure di scelte strategiche in campo nel proprio far cambiare totalmente la partita quindi è un sinonimo di intelligenza nel capire cosa sta succedendo in campo e anche nel credere nel proprio staff perché comunque lui dà molta importanza anche allo staff che guarda magari la partita sotto un altro punto di vista Altro ruolo legato a questa stagione non stupirti della domanda Sinisa Mijailovic quanto conta in questa stagione pur non essendoci più? Ma ecco, parlavo prima di come siamo arrivati a questo punto io quindi mi ricordo tutti i giocatori che sono passati importanti che hanno dato una crescita a questo tipo di Bologna e ovviamente c'è anche l'importanza di Sinisa perché comunque ha portato un cambiamento da quando è arrivato purtroppo alla sua scomparsa e ha portato innovazione ha portato anche un modo spavalto di interpretare le partite quindi ci ha cambiato anche molto lo stato unanimo la consapevolezza e quindi c'è gran parte anche di suo ha dato anche importanza comunque a livello internazionale al Bologna e poi la sua malattia ci ha veramente unito io l'anno scorso ho fatto anche mi ricordo, insomma al mio compleanno feci un discorso anche alla squadra dove diedi proprio l'importanza di aver superato, gestito dei momenti del genere proprio a livello di sentimenti provati quindi quello ha fatto anche crescere, diventare maturi tantissimi ragazzi perché comunque è stata una cosa veramente unica e quindi ci ha lasciato veramente grande maturità grande maturità Voi sei stato l'allenatore, se non sbaglio, che hai avuto di più nel corso della tua carriera? Sì, lui è stato un padre calcistico per me Voi vi siete amati, vi siete odiati C'è stato di tutto Sì, esatto, esatto è stato veramente un... io l'ho detto anche in altre interviste in senso non è stato rosa e fiori e basta in senso all'inizio quando ci siamo visti... I rapporti veri sono così Esattamente esattamente lui mi ha fatto provare anche tanta rabbia perché quando all'inizio a Firenze mi ricordo non mi fece giocare io ero giovanissimo, ero già andato in nazionale però mi voleva insegnare qualcosa mi voleva insegnare anche a reagire a delle situazioni negative e poi però mi ha dato delle gioie incredibili alla Samp, al Torino, ma anche qua e quindi è anche grazie a lui che io sono qua quindi ho scoperto un amore per una città e per un club quindi è anche grazie a lui che mi ha fatto venire qui a Bologna Quali sono i due momenti? Il più dolce e il più duro trascorse con lui? Perfetto, il più duro lo ricordo benissimo perché a livello calcistico a livello professionale proprio a Firenze io avevo appena esordito in nazionale ho giocato l'anno prima in Champions League avevo 21 anni, 22 anni avevo il petto gonfio mi sentivo fortissimo e quindi lui mi mise fuori per una partita, due partite, tre partite e mi voleva far capire che stavo dando un pochino di meno in allenamento mi voleva insomma svegliare dal virgoletto un pochino e questa la dico questa cosa perché comunque fa capire anche quanto il calcio a volte ti porta in alto insomma ti porta anche in basso mi ricordo una partitina capì di non giocare la domenica e il giovedì mi misi da una parte e iniziai a piangere per quanta rabbia avessi dentro perché comunque pensavo fosse tutto facile adesso di stare in nazionale tutto perfetto invece lui si avvicinò a me e mi disse guarda che io ti sto facendo capire in questo modo che tu devi reagire devi comunque tornare ad essere a curare i dettagli come facevi prima perché questo ti porterà risultati ecco questo è stato magari quello più difficile da gestire il più dolce viene in mente sicuramente uno fuori dal campo perché quando siamo andati a trovarlo in ospedale e abbiamo fatto una sorpresa quando era il momento della recidiva e lui era lì da 40 giorni 45 giorni e lo andammo a trovare sotto in ospedale tutta la squadra quello è stato veramente un momento di cioè di sentimenti pazzesco cioè non me lo scorderò mai sinceramente perché vidi proprio la gioia nei suoi occhi e anche se insomma era in alto sulla finestra però vidi proprio una persona che aveva la gioia nel vedere delle persone donargli un momento donargli un po' di affetto faccio un'ultima domanda su lui perché poi non è neanche giusto scavare e scavare troppo ci mancherebbe altro come hai saputo che era scomparso? anche lì ti avrei voluto chiedere come hai saputo della sua morte però viene quasi difficile usare questa parola io esattamente io non riesco ancora a parlare nel passato cioè faccio veramente fatica a parlare nel passato perché per me è stato veramente una persona unica è stato proprio un padre calcistico mi ha insegnato un sacco di cose è stato come dici un rapporto vero quindi parte negativa e parte positiva un rapporto quindi faccio fatica a parlare nel passato comunque avendo questo rapporto anche con la famiglia l'ho saputo parlando con amici della famiglia poi ho parlato con Luciano il figlio e insomma mi disse che era in una situazione molto grave e sono riuscito a prendere un treno e andare dove era ricoverato in ospedale per cercare per cercare di dare l'ultimo saluto e in questo la famiglia veramente faccio un complimento pazzesco alla famiglia perché sono stati meravigliosi e quindi adesso mi sono anche ripromesso di stare vicino a loro ai figli perché se lo merita e quindi se lo meritano è una situazione molto difficile da spiegare a parole però ecco loro sanno che io ci sono per loro e mi sento anche con i figli li vedo Dusan e quindi dai sanno che ci sono sempre per loro è difficile spiegare a parole diciamo che gli occhi tuoi in questo momento spiegano molto e anzi grazie per aver condiviso questi racconti perché io lo conoscevo ovviamente molto peggio rispetto a come lo conoscevi tu però ho sempre visto una bella persona quindi è giusto raccontare chi sia stata questa bella persona una persona infatti mi sono immaginato quando raccontavi di te che piangevi a lui vicino mi sono proprio immaginato la scena cambiamo argomento insomma anche se è difficile non passare da uno all'altro chi è Joshua Zirzke Joshua è un attaccante moderno è un attaccante pop io lo definisco attaccante pop perché bello attaccante si un attaccante pop è proprio perfetto per Andy Warhol perché si moderno perché mi piace venire incontro durante la partita giocare con la squadra legare e anche fuori dal campo è una persona molto pop perché a parte gli stili musicali come si veste ho anche le cose che gli piacciono è una persona che quest'anno è diventato leader anche tecnico della squadra perché si è preso anche delle grandi responsabilità è un crack insomma quindi gli auguro veramente il massimo della carriera perché sta anche lavorando moltissimo a livello mentale per crescere qual'è la cosa più incredibile che tu gli abbia visto fare? abbinare a questo strapotere fisico e questa voglia di correre a una tecnica meravigliosa e il cambiamento è stato anche come come si allena quest'anno questa stagione sta allenando veramente in maniera incredibile quindi il modo di allenarsi ha fatto anche la differenza parlavamo di ruoli quello di Lorenzo De Silvestri qual è in questo momento? molto chiaro nel senso io quando ho rinnovato l'anno scorso per questa stagione mi è stato detto ecco di di fare da trait d'union di essere da esempio ma quello lo sono sempre stato durante la mia carriera e e di essere pronto nei momenti insomma che serviva esserlo quindi credo di essermi tolto delle soddisfazioni di volermi togliere delle altre e poi di essere insomma provare ad essere ad esempio tutti i giorni quindi il fatto di venire volentieri al campo di essere sempre in prima linea diciamo negli allenamenti ma anche nelle partite anche per virgolette rosicare quando magari non gioco quello mi fa sentire vivo e mi fa voler dare quel 120% sempre e poi di cercare di essere vicino ai ragazzi più giovani fargli capire cosa è Bologna cosa è Bologna e quali sono gli obiettivi da raggiungere è vero che li accompagni anche in città alla scoperta dei luoghi sì diciamo che ogni volta che viene un ragazzo straniero oppure un ragazzo nuovo gli do il mio numero e gli faccio diciamo entrare nel gruppo Whatsapp e poi dico che sono sempre a disposizione quindi gli faccio un po' capire com'è Bologna quali sono i luoghi insomma da capire perché è molto importante insomma ci si incerisce prima e poi si performa anche meglio quando capisci dove sei arrivato quali sono i posti insomma dove senti più a casa e quindi un giocatore può anche abituarsi a performare prima qual è il tuo posto preferito a Bologna? c'è una piazza che è Piazza Santo Stefano la piazza delle Sette Chiese mi piace tantissimo perché è un luogo meraviglioso ma Bologna è meraviglioso da vivere a piedi è un piccolo museo sono dei quartieri meravigliosi il centro storico è bellissimo da vivere a piedi o in bici quanto litigate tu e i ventenni sulla musica da mettere nello spazio mi immagino te che vuoi mettere Bruce Springsteen e loro che non sanno chi sia esatto io a volte cerco di far metto l'artista metto la musica italiana Battisti Pino Daniele Lucio Dalla e dico questo chi è? silenzio poi metto un po' Eric Clapton Bruce Springsteen però sto cercando di fargli capire anche di ascoltare quello che è stata la musica importante per me però anche io insomma sono sono molto con la mente aperta per far capire anche per capire insomma come sono le nuove generazioni chi è il peggiore quello irrecuperabile a livello di musica? è difficile comunque quelli più giovani quelli più giovani che ascoltano magari la trap oppure il rap oppure il spinto sono più difficili da farli entrare nelle mie visioni diciamo a proposito di spogliatorio ci racconti la cosa più bella accaduta in questa stagione? ripeto le esultanze comunque a fine partita o nei gol sono qualcosa di spettacolare ma anche prima nel senso vedere chi non gioca essere comunque partecipe a quello che è la partita anche quando entrano i ragazzi dargli comunque forza dargli energia è una cosa molto molto bella e non è scontata quindi io credo che questa è stata un po' anche la nostra forza e il voler stare insieme anche magari fuori io sono quello che martella un pochino per fare le scene perché un pochino si è persa questa cosa ma noi quest'anno ne abbiamo fatte parecchie proprio per conoscere anche com'è il mio compagno fuori da quello che lo spogliatoio questo è molto importante anche questo non è scontato che accada no perché più si va avanti più noto che non si ha magari la voglia di stare insieme oppure ognuno la intraprende proprio come lavoro come giusto che sia però sai il calciatore il calcio ti porta anche a esprimere sentimenti forti e quindi uno deve conoscersi anche al di fuori è bello stare insieme anche fuori ecco conoscersi questo è molto importante e questa è stata un po' la nostra forza il tuo contratto scade a giugno programmi per il futuro progetti voglie ma io ho gli obiettivi ancora da calciatore perché li ho e li voglio vorrei raggiungere perché mi piacerebbe continuare e mi piacerebbe ancora raggiungere 100 presenze con Bologna raggiungere ancora degli obiettivi perché mi sento bene quindi questi sono i miei obiettivi poi ovviamente già ho un po' chiaro quello che vorrei provare a fare dopo ma ho detto insomma di valutarmi sempre da calciatore perché mi sento ancora in forma mi sento ancora calciatore il dopo invece dirigente il dopo mi vedo sicuramente più in giacca e cravatta iniziare provare a capire se quella può essere la mia strada perché mi piacerebbe sicuramente rimanere nel mondo calcistico ho studiato un pochino anche per questo e mi documento anche un po' per questo poi se questa sarà la mia carriera da qua a non so quanti anni non lo so però sicuramente mi piacerebbe curiosare e provare a iniziare Lollo in questa seconda parte l'abbiamo detto parleremo tanto di te io all'inizio dell'intervista ti ho chiesto cosa vedi quando ti guardi intorno adesso ti chiedo cosa vedi quando ti volti indietro allora vedo un ragazzo che aveva una voglia matta di far vedere al proprio padre di voler giocare a pallone perché lui era completamente contrario di questo e che ce l'ha fatta cioè ce l'ha fatta a fargli vedere insomma che potessi fare questo sport e che poi ne ha fatta veramente un viaggio fantastico è riuscito ad arrivare forse dove neanche lui ecco il giovane Lollo pensava di arrivare e quindi un ragazzo orgoglioso che ha raggiunto tanto e vuole ancora raggiungere come hai convinto tuo padre e perché non voleva farti giocare a calcio perché questo un po' l'ho detto un po' di volte però lui è un amante dello sci di fondo un amante dello sport di sacrificio insomma non reputava che il calcio come tale ma glielo a spiegare e quindi mi ha fatto fare sci di fondo mi ha fatto fare atletica mi ha fatto fare ginnastica però io avevo quella parte del cervello che insomma dicevo tra me io però voglio provare a giocare voglio provare a giocare e quindi quello però mi ha anche dato una forza interiore grandissima perché un po' gli sport di sacrificio un po' il voler mostrare a papà di poter effettivamente diventare calciatore mi ha dato sia quel sacrificio tale e anche con lo spirito di combattere no? che di poter poi effettivamente diventare giocatore dimmi se sbaglio ma tu hai iniziato a 11 anni tardissimo è tardissimo tardissimo infatti è un po' una storia strana però sì ho iniziato tardi perché facendo tutti questi sport facendo sci di fondo ginnastica atletica a un certo punto facevo tre giorni a settimana atletica tre giorni a settimana a calcio dopo però papà ha mollato ha capito insomma anche un pochino influenzato da mia mamma svenivi la sera però mi ha dato una grande mano perché poi andavo praticamente il doppio il triple rispetto agli altri quando sono entrato in un campo di calcio l'allenatore mi ricordo dal provino mi ha detto no no tieni lo sto ragazzo perché va veramente forte tu pensi di aver avuto dalla carriera tutto quello che avresti meritato e lo chiedo a un difensore che reputo uno dei più forti che abbia visto però poi vado a leggere il palmarès una coppa italia con la lazio se è vero forse allora a bocce ferme e per come sono partito ecco ne stiamo parlando ti dico ampiamente di sì perché magari non avrei neanche mai dovuto fare questo lavoro però in alcune situazioni forse ecco magari nazionale oppure non avendo mai forse ecco lottato per grandissimi obiettivi però sono molto 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 orgoglioso e contento di quello che ho fatto di quello che sto facendo perché comunque mantenere questi standard per così tanto tempo adesso veramente capisco che non è semplice mi hanno sempre detto è facile arrivare è difficile mantenere e adesso veramente capisco quanta forza sia ecco fisica atletica ma soprattutto mentale ci vuole per mantenere per così tanti anni la Serie A in nazionale le presenze sono pochine sono meno di dieci io c'ero purtroppo quel giorno del 2015 a Spalato partita contro la Croazia qualificazione Euro 2016 un infortunio terribile per te si sentì quasi il rumore dell'infortunio nello stadio vuoto ti sei mai chiesto senza quell'infortunio cosa sarebbe stata la tua carriera sliding doors eh sì ma sì a volte sì me lo sono chiesto soprattutto nel periodo della riabilitazione perché mi ricordo che era una partita post campionato quindi a giugno Sinisa ci disse ai tempi della Samp che sarebbe andato al Milan lui mi disse che avrebbe fatto di tutto per portarmi al Milan con lui io ero titolare nazionale venivo da una forse delle mie stagioni migliori a 28 anni 27 anni con la Sampdoria però insomma fa parte della vita noi lavoriamo con il fisico e il fisico è la nostra azienda lo portiamo veramente a dei standard altissimi e quindi l'infortunio fa parte della carriera e anzi adesso Sampdoria mi fortifica ed è vero perché mi ha fortificato tantissimo mi ha fatto capire cosa vuol dire veramente soffrire e poi gioire di nuovo perché poi sono tornato in nazionale dopo l'infortunio è stato riconquistarla è stata bellissima come cosa e mi ha insegnato veramente tanto sia fuori che dentro al campo in quella partita ti sei giocato il crociato hai perso il Milan l'europeo a me colpisce la serenità però adesso no lì per lì lì per lì è stata tosta perché poi mi ricordo benissimo che feci la ribellazione a luglio-agosto quando la gente metà giugno luglio-agosto e la gente stava in vacanza o iniziava a ritiro e quindi non è stato assolutamente facile perché mi ha aiutato molto magari stare a Roma a fare la Villa Stewart con i miei storici la mia famiglia vicino però sono uno che si rimbocca le maniche ecco in questo quella parte con papà con i sport di sacrificio con gli insegnamenti l'educazione che mi ha dato mio padre e mia madre mi hanno aiutato tantissimo parliamo di Lazio la Lazio è stata a casa è stato l'inizio del percorso e poi cosa è stata? è stata mia mamma calcistica la Lazio mi ha fatto capire che io insomma potessi fare questo questo tipo di lavoro mi ha fatto incontrare un allenatore come Dele Rossi che mi ha insegnato tantissimo in campo mi ha proprio fatto diventare giocatore perché io avevo una strapotere fisica una voglia di correre come un pazzo però mi mancavano alcune alcune cose sia tecniche che tattiche lui ha perso tra virgolette ha investito tanto tempo in me quindi mi ha insegnato veramente tanto e la Lazio è stata proprio la mia mamma calcistica abbiamo vinto una Coppa Italia ero giovanissimo è stato l'inizio proprio della mia carriera narra la leggenda che tu un mattino ti sia svegliato che ti sia trovato davanti al netto a pezzo nudo Paolo Picagno con un rasoio in mano sì ah è vero e pico se faccio un rasoio in mano è vero è vero rito proprio è terribile adesso non si può più fare questa cosa figuriamoci però insomma sì io portavo questi capelli alla pariolina bellissima ero molto orgoglioso per chi non è di Roma cos'è un capello alla pariolina il capello alla pariolina è un po' alla Beatles i parioli sono un quartier di Roma e il mio primo ritiro in prima squadra c'era questo rito di iniziazione diciamo per i novelli giocatori giocatori giovani ho 17 anni e tra un allenamento un altro si presentò in stanza Paolo con il rasoio e mi fece una striscia qui e poi io sono rimasto senza parole un po' così e lui mi ha detto no vabbè poi te li taglio tutti e mi voleva far fare l'allenamento così ho detto ti prego Paolo a questo punto rasano di tutti e da lì in poi non l'ho mai più fatti ricrescere infatti a volte ho scherzato un po' con lui su questo fatto lui mi ha detto se hai visto ti ho fatto diventare uomo però da lì in poi è stato il mio taglio per tutta la carriera la Lazio è stata anche Gabriele Sandri Gabbo il DJ tuo amico che è stato ucciso in un'area di servizio da un colpo sparato da un agente la ferita si chiuderà mai? ma è difficile perché comunque ha fatto parte io ero molto giovane è stata una cosa anche più grande di me però bisogna sempre ricordarlo bisogna ricordarlo perché è stato veramente un fulmine al cercerino una situazione difficile da capire da gestire un ragazzo un ragazzo per un amore gigante per una squadra è una situazione paradossale però io lo ricordo sempre volentieri è sempre con me e anche vederlo ogni volta che vado a giocare contro la Lazio proprio vedere la sua foto sotto la curva mi fa ricordare quel tipo di sensazione lì quindi veramente abbraccio tutta la famiglia Cristiano il fratello quindi per me è sempre il mio cuore a proposito di Gabriele Sandri 17 anni dopo c'è un messaggio che dobbiamo ancora tenere presente dobbiamo tenere a mente ma ricordarlo perché comunque l'amore che aveva lui per la Lazio era incredibile perché appena finito di suonare alle 6 era pronto per partire per venire a San Siro con la macchina per vedere la partita quindi sicuramente il suo amore per una squadra questo è da ricordare cioè il vivere il tifo e la passione con questa passione con questo amore anche educazione di star vicino a un giocatore ecco come me che comunque avevo questo rapporto io ero molto giovane mi voleva anche far capire come era cos'era la Lazio cos'era il tifo giusto e quindi secondo me è questo da ricordare con la Lazio perché è finita? ma è finita perché volevo insomma in quel momento lì volevo giocare di più volevo crearmi una mia carriera è arrivata questa offerta dalla Fiorentina e io volevo ecco diventare anche uomo lì era un po' la mia comfort zone stare a Roma con i miei amici la mia famiglia l'anno prima avevo giocato poco avevo giocato più in Coppa Italia che poi fortunatamente l'abbiamo anche vinta però avevo bisogno di diventare uomo sia dentro che fuori dal campo e quindi ho fatto questa scelta di partire con la mia carriera fuori da Roma i tre anni alla Fiorentina cosa ti hanno lasciato? mi hanno lasciato delle emozioni incredibili in Champions League perché vincemmo a Liverpool comunque abbiamo vinto anche col Bayern Monaco quella partita incredibile da andata non me la scorderò mai poi anche ritorno mi ha fatto diventare uomo la prima volta fuori casa le notti di Champions bellissime e poi anche l'ultima stagione fu molto difficile è la prima volta dove ho capito cosa vuol dire soffrire anche delle critiche soffrire anche del tifo che magari ti veniva contro quindi capire un pochino cosa era la Serie A in Italia i quattro anni alla Sampdoria? gli anni alla Sampdoria erano per me insomma degli anni di cercare un po' la rinascita e sono stati anni veramente bellissimi perché ho scoperto un amore per la città pazzesco una tifoseria meravigliosa uno stadio bellissimo poi era fu l'anno anche bellissimo con Sinisa dove arrivamo ai preliminari di Europa League anche dei campioni sono passati anche là mi ricordo una squadra fortissima e poi dove ho conosciuto anche mia moglie Carlotta quindi mi ha lasciato anche a livello umano un amore bellissimo e poi ci sono i 4 anni al Torino i 4 anni al Toro forse ho capito cosa voleva dire essere maturi sono iniziato ad essere anche un team player mi sono preso anche delle responsabilità fuori dal campo ho fatto forse la mia stagione migliore sotto il profilo realizzativo perché un anno feci 7 gol e mi ha fatto capire veramente anche questo amore Toro il fatto di non mollare mai fino alla fine e questo mi ha dato anche una maturità tale anche nell'affrontare le partite in maniera un pochino più serena prima eravamo anche un pochino avevo questa pressione me la ponevo anche da solo mi ha fatto capire anche di affrontare le partite in maniera più serena sono stati anni veramente molto molto belli lo dicevi poco fa parlando di Genova lì hai conosciuto tua moglie è una ricercatrice oncologica diciamo che lo stereotipo velina calciatore non abita a casa vostra infatti scherziamo spesso con lei di questo fatto che dovremmo aprire un profilo per insomma cambiare un po' quello che è lo stereotipo del calciatore però no ho scoperto Genova ha fatto scoprire questo amore meraviglioso per Carlotta è stato un amore che è cresciuto sempre non è stato amore un colpo di fulmine è stato un amore che è cresciuto piano piano e io il suo lavoro è una missione ed è bellissimo stare accanto vedere quanta passione mette veramente nel poter aiutare ecco la ricerca e niente lei mi sta anche molto vicino ha iniziato a capire cosa vuol dire in questi anni stare con un calciatore però è un rapporto bellissimo ci ritroviamo poi la sera a parlare uno del lavoro l'uno dell'altro è un rapporto che mi piace tantissimo mi ricordo anche quello bello dei miei genitori dove entrambi tornavano a casa e si aprivano l'uno con l'altro tutti noi non dimentichiamo il periodo del covid perché è impossibile da dimenticare ma voi come l'avete vissuto e te lo chiedo soprattutto pensando a tua moglie che immagino insomma sia stata chiusa in ospedale per tutto il tempo sì esatto perché tra l'altro siamo stati lontani perché lei lavorava a Genova in quel momento lì e l'ospedale era proprio berato di lavoro quindi lei faceva degli orari folli e con le sue testimonianze ho capito veramente cosa era in quel momento il pronto soccorso cosa era in quel momento la situazione perché noi ecco da fuori io non riuscivo a rendermene conto proprio nel senso si stava in casa però con lei sono riuscito a capire nel dettaglio cos'era vedere insomma la sofferenza proprio delle persone e ho capito anche cosa vuol dire star vicino e aiutare le persone in momenti del bisogno quindi quello poi me lo sono portato con me anche nel mio lavoro ma anche nella quotidianità ecco pensando a lei in quel momento ti sei sentito in qualche modo in colpa perché lei stava tentando di salvarle le vite in colpa in colpa no ma sicuramente mi sentivo in dovere di fare qualcosa di aiutare sicuramente un pochino con la mia immagine cercare di influenzare quello che era tutto il mondo calcistico ma poi mi sono ripromesso di cercare di aiutare di imparare da quel momento lì e quindi adesso cerco di comunque star vicino a quelle che sono gli enti che aiutano ecco gli ospedali fare la beneficenza che poi fa star bene anche me nel poter aiutare l'altro ecco a una certa età mi sono ripromesso anche di togliere qualcosa da me stesso e cercare di aiutare l'altro bisogna anche farle queste cose però ecco un po' mia moglie in questo mi ha aperto un mondo ecco da questo punto di vista come ci sei laureato in economia aziendale? mi sono diplomato per far contenta un pochino mamma e anche per tenere la mente allenata ho iniziato a questo percorso è stato un po' lungo perché non è stato facile seguirlo però mi ha aiutato sicuramente anche a avvicinarmi a quello che erano i miei coetani perché io ho tutti i miei amici storici di Roma che hanno fatto l'università e mi teneva anche con i piedi per terra e mi ha aiutato anche in campo perché mi ha dato una certa logica di pensiero e poi mi aiuterà anche in futuro perché ho capito alcune cose perché ho fatto la tessina del marketing come strumento competitivo per le società proprio di calcio e quindi in futuro magari mi potrà essere d'aiuto che tipo di azienda è il Bologna? è un'azienda che sa quello che vuole che cura rapporti umani che comunque investe nei giovani per farli crescere per creare proprio del capitale umano è un club che funziona bene perché ti permette anche di performare al meglio perché dove non manca nulla abbiamo un centro sportivo all'avanguardia dei dirigenti e comunque dei dipendenti che fanno le cose come vanno fatte ci sono delle regole anche di comportamento importanti quindi è un club che sa quello che vuole e dove vuole andare soprattutto l'altro grande amore tuo è quello per l'arte si trovi un po' fra all'area che si 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 no questa è una cosa che comunque poi ha influenzato molto mia moglie anche andiamo per mostre musei anche negli studi di artista e mi tiene il cervello ecco mi fa capire che c'è un mondo totalmente opposto dal mio dove non ci sono orari ma c'è solo l'estero artistico e mi piace tantissimo andare per anche nelle città stranieri cercare di di vedere più musei possibili ma soprattutto mi piace vedere gli studi di artista per vedere come un artista vive la propria vita hai mai pensato di fare l'artista? no sinceramente no perché non ho questa dote però in futuro mi piacerebbe magari rendere fruibili le mie opere magari con una fondazione non lo so in qualche modo adesso sto pensando a cosa fare però è un mondo che mi piace veramente tanto quindi le copere nel senso che hai sì no no io sono un collezionista quindi però non tu e tu cioè tu e di proprietà ma non fatte da te no 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 esatto ma pensavo che ogni tanto no no acquistate acquistate però ecco sì mi piacerebbe ecco poi rendere fruibile in qualche modo però è un mondo bellissimo quindi anche dopo la carriera lo porterò avanti sicuramente ma questo Bologna è paragonabile a un'opera d'arte? beh sicuramente questo Bologna è sicuramente un artista contemporaneo che ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori quindi tutti i critici i curatori d'arte li ha sorpresi tutti perché noi siamo adesso in questo momento siamo così però per noi per l'artista contemporaneo in sé non è una sorpresa perché è ben chiaro quali sono le proprie doti ha lavorato tanto per arrivare a questo momento qua quindi sa il lavoro svolto quindi è magari una sorpresa per i curatori e per i critici ma per l'artista in sé e per chi lavora per l'artista no bella questa spiegazione bella l'ho capito anch'io un po' complicata ma senti adesso ti dico una frase tu finiscila e tieni conto che è la frase che finisce questa intervista quindi se il Bologna va in Champions League prego ho un paio di scommesse con altri giocatori perché con Ligo abbiamo detto che ci facciamo i capelli o la barba di rosso-blu alla pariolina purtroppo non posso però forse la barba rosso-blu riesco a farla e poi anche con con Orso con Righi abbiamo una bottiglia da aprire molto importante lui lo sa che abbiamo tenuto lì abbiamo firmato e ci sono delle delle cose belle ma sicuramente queste due sono da sono da fare qualora rosso-bianco rosso-bianco rosso-blu diciamo che sulla barba puoi fare un po' di più non è proprio il massimo se vado in Champions ritengo la barba ho capito fai qualcosa di più rosso-blu è brutta da vedere la barba girare così io che poi sono molto lineare non è vado in giro in mutande per Bologna è qualcosa più della barba non esageriamo quindi insomma tifosi del Bologna state tranquilli poi mi vedono magari in mutande quando arrivano il telecamera nello spolatoio grazie a parte gli scherzi no grazie è stata veramente un'intervista a volte impari delle cose ascoltando un'intervistata oggi è una di quelle volte grazie 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 per aver toccato tanti argomenti è stato un piacere rivivere la mia carriera e poi vivere questi ben momenti che sono in Bologna quindi ti ringrazio e noi ci vediamo e ci sentiamo la prossima settimana per una nuova puntata di Storie di Serie A Storie di Serie A su Radio Serie A con RDS